Bene, oggi scomodiamo niente po' di meno che il grande Peter Brook, uno dei maggiori registi teatrali del Novecento. Per i teatranti è inutile una presentazione, i non teatranti sappiano che ci troviamo davanti a un colosso della regia, ancora vivo, ultranovantenne e ancora fa spettacoli. Allora Peter Brook racconta la sua prima esperienza in un teatro da bambino. Allora lui racconta di come questa esperienza lo abbia segnato per tutta la sua carriera di regista. Lui era figlio di una famiglia borghese benestante e aveva una tata che andava a pazza bene il teatro. Pazza proprio. Continuava a raccontare al piccolo Peter sapessi com'è bello il teatro, questo posto dove entra la gente, dove c'è questa luce, poi tutto è rosso, poi tutto diventa scuro e tutti sono seduti e poi c'è questo momento straordinario in cui si apre il sipario e dietro a questo sipario appaiono i principi, le principesse, i draghi, insomma un'aspettativa straordinaria si viene a creare del cuore e nella mente di questo fanciullo. Tanto che finalmente un giorno, quando lui ha 9, 8, 10 anni, non so esattamente, il papà dà il permesso alla tata di portarlo a teatro, una pomeridiana naturalmente, e Brooke racconta che tutto quello che vede il pubblico che arriva, la bellezza del teatro, il caffè, la biglietteria, gli ori, il velluto rosso, tutto quello che la tata gli aveva promesso era vero. E quindi è in uno stato di aspettativa pazzesca. Adesso quando si aprirà quella strana tenda rossa che è davanti a noi, chissà cosa succederà, è in attesa di eventi stratosferici. Finalmente le luci si abbassano, il sipario si apre e ahimè bruca uno shock spaventoso. Perché dietro al sipario, anziché principi draghi e principessi da salvare, c'è un altro sipario. In che senso? Il regista aveva fatto, racconta a Brooke, un grande telo, un po' come nelle cose dei cantastorie siciliani, dove c'erano tutti dei disegni, tanti quadretti in cui veniva raffigurato epicamente un prologo in cui un cantastorie diceva, ma insomma per Brooke questo fu un tradimento assoluto, scoppiò in lacrime e al punto tale che la tata lo dovete riportare a casa. Questa è stata la prima esperienza di Brooke in un teatro che l'ho segnato moltissimo perché mi continuava a dirmi, perché ho avuto l'onore di avere vari colloqui con lui, continuava a dirmi, ho capito quel giorno che questa aspettativa magica non va tradita, che appena comincia l'azione ci sia o non ci sia un sipario, deve subito accadere qualcosa di interessante. Questa è la parola che lui usa, interesting, to look, interessante da guardare, and to hear, è da ascoltare. Allora, questa prima esperienza lo segnerà anche, come dire, nelle sue strategie perché ogni volta che Brooke faceva, e mi auguro ancora farà, degli spettacoli, a 15 giorni dall'andata in scena prendeva la compagnia e andava a recitare in una scuola. In una scuola dove gli attori recitavano lo spettacolo senza scenografia, senza costumi, mimando gli attrezzi scenici, e Brooke si metteva lì in mezzo ai bambini, anche piccoli, e cominciava a guardare non lo spettacolo ma le reazioni degli spettatori allo spettacolo. Ogni volta che vedeva che i bambini si distraevano leggermente, allora lui prendeva subito un appunto perché quella era la prova che in quel momento non stava succedendo niente di interessante da vedere o da ascoltare e dava un totale credito a questo grado di attenzione o disattenzione dei bambini. Anche quando gli portava spettacoli per adulti, parliamo di Amleto, parliamo della conferenza degli uccelli. Non faceva, come dire, gerarchie anagrafiche rispetto a questo. E correggeva in seguito durante le prove quei punti che i bambini gli avevano segnalato. Fra l'altro lo disse in un modo molto spiritoso perché disse, vedi, i bambini si distraggono meravigliosamente, nel senso che appena non succede qualcosa di interessante da guardare, da vedere davanti a loro, si occupano subito d'altro perché non hanno tempo da perdere. L'esempio che fece dice, subito si mettono di nascosta ad allacciare fra di loro le scarpe dei vicini in modo da creare un incidente, uno scherzo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa straordinaria idea di dare credito all'infanzia davanti al teatro, che poi corrisponde a una profonda concezione di cosa sia il teatro. Come dicono i filosofi, senza scomodare nomi e cognomi, è la sospensione dell'incredulità, cioè è quel luogo in cui smettiamo di non credere e cominciamo a credere appunto ai draghi, alle principesse e ai principi, anche se sappiamo che sono attori, però in quel momento sospendiamo la nostra incredulità, torniamo, bambini, e ci abbandoniamo al flusso narrativo ed emotivo di quello che il palcoscenico ci regala. E i bambini sono i migliori spettatori, diceva lui, per le ragioni che vi raccontavo prima. Ho avuto una sensazionale prova di quanto vero fosse quello che Brooke diceva un pomeriggio che ho condotto i miei figli a vedere uno spettacolo, diciamo, per bambini, ma poteva essere anche visto da ragazzi. Non facciamo nomi e cognomi, è sempre spiacevole scomodare colleghi che non si possono difendere. Un ostacolo che all'epoca era molto famoso, con molti colori, le maschere e chi più ne ha più ne metta. Certamente sulla scena una serie di, boh, boh, son e lumiere, anche abbastanza sorprendenti, ma non sufficienti per una bambina che era seduta dietro a me, con la sua mamma, la quale, dopo un po' che è maschera che esconda i bauli, questo, quella fondali che si spostano, eccetera, questa bambina chiede alla sua mamma, dice, ma mamma, ma quando comincia? Ecco, questa è, a mio parere, la recensione orale più geniale e la stroncatura più categorica che sia mai stata fatta nella storia del teatro. Quando comincia? Perché tutto quello che si era dipanato davanti al suo sguardo non aveva minimamente suscitato interesse in lei, perché non era successo qualcosa, non era accaduto qualcosa di davvero interessante da vedere, da sentire. Si erano soltanto prodotti degli ornamenti più o meno funambolici e più o meno riusciti davanti a lei, ma la sua anima di bambina in cerca di storie, in cerca di misteriose avventure era stata completamente tradita e riteneva che quello che era accaduto fino allora non fosse che un inutile, anche se colorato, prologo. Purtroppo, naturalmente, guardando l'esperienza con gli occhi di quella bambina, lo spettacolo non cominciò mai, perché come iniziò così finì? Ecco, ora quella bambina sarà un'adulta, chissà se dopo quella traumatica esperienza è andata ancora in teatro, continua ad andare in teatro, ma certamente è in un angolo non secondario del mio cuore. Lei con le sue parole straordinarie, mamma, ma quando comincia? Ciao a tutti.